Chiude con numeri importanti in termini di presenze turistiche e non l'iniziativa del comune di Napoli Nubellu Cafè andata in scena al Maschiangioino. Due giorni di degustazioni, convegni, dimostrazioni di tostatura e assaggi gratuiti dedicati alla bevanda più rappresentativa della città di Napoli. Un'occasione pensata per celebrare il caffè partenopeo, parte della cultura e della tradizione, come sottolinea l'assessore al turismo Teresa Armato. Nessuna bevanda e nessun alimento come il caffè, forse solo la pizza, è così identitario per la nostra città. Si associa Napoli al caffè. È un'importanza culturale perché il modo in cui sono state impostate queste due giornate è proprio quello di andare a conoscere questa icona, qual è il caffè, dal punto di vista anche culturale. Celebrato non soltanto il caffè inteso come bevanda, ma anche il suo rito tutto partenopeo, come spiegano il professore Marino Niola e Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Univerde che in questi mesi sta promuovendo presso l'UNESCO la candidatura del rito del caffè italiano. A Napoli il caffè è più di una bevanda, è il carburante della socialità, è quello che tiene insieme le persone. È un grande piacere, ma è un piacere da condividere. Possiamo riuscire, ci siamo riusciti pure sul canto lirico, adesso è in corso la campagna per la cucina italiana e io credo che dopo il rito del caffè deve diventare un elemento unitario nazionale perché il caffè in Italia è un rito. Un'iniziativa da replicare sicuramente, ad affermarlo Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli. Una giornata di festa che vuole da un lato ancora di più omaggiare l'identità culturale del nostro caffè, ma dall'altro anche valorizzare il mondo caffeicolo, imprenditoriale e commerciale perché il caffè a Napoli è cultura e identità, ma è anche lavoro, sviluppo e possibilità di impiego per i nostri ragazzi.